Ciao sono Golkeji, oggi siamo nuovamente qui su Minecraft per un nuovo server che vedremo oggi insieme che è Shotbow, vedete che ci sono anche tutti i portali qui, tutti belli grossi però faremo solo una modalità perché non sono proprio minigame questi ma sono proprio dei giochi completi e quindi ne riesco solo a mostrare uno, comunque come vedete abbiamo tipo questo che sembra WarZ, c'è quello creativo, c'è quello guerriglia comunque c'è tanta roba, però visto che non ho molto tempo, io farei lo smash che è fatto molto bene vediamo un po' se troviamo un server decente, con una mappa decente, vediamo un po', qua possiamo scegliere allora c'è il lobby, ci vedremo in game allora bene, siamo dentro, una nuova partita sta per incominciare, quella sarà l'arena dove andremo a dare botte su botte, siamo in tanti, siamo 8, 7, 7 vediamo un po', dobbiamo trovare degli oggetti e far cadere i nostri avversari fuori dalla mappa abbiamo il doppio salto, vediamo un po', allora, qua intanto nessuno si picchia io devo trovare qualcosa, vediamo un po', da questa parte ok, là si stanno già dando, ma io voglio un'arma vediamo un po', è possibile che non ci sia niente voglio almeno una spadina o qualcosa, per far male guarda quello lì dove è già andato ma che cagli vai là ehi, c'è, uff, sì, sì vuoi venire qua? Vieni, vieni eh, ma no, ma come cavolo fai? questo citta, questo citta e allora lo lasciamo perdere allora 9 minuti alla fine del match però perché io non trovo oh, forse c'era qualcosa qua oh, eccolo qua yeh, ciao no, ho saltato ecco, questo comincia a distruggersi forse ha fatto anche un buco sotto no, vieni 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 che è l'ora di picco no, no what the f... no, non ci credo, non ci credo non ci credo perde già una vita così e ha dato pure il punto all'altro anche se non è stato l'altro ma non ci credo non ci credo non ci voglio credere però qua qualcuno sta già morendo come vedete siamo quasi tutti verdi tranne un rosso un bianco e un giallo il rosso è perché è stato già strapicchiato quello giallo metà e metà quello bianco non sta giocando si sta guardando quindi facciamo attenzione perché qui se no ci volo ci volo seee pogni pogni di qua pogni di là e cammino cammino qua se no qualcuno qua si fa male uh se mi tirano lontano siamo siamo già rossi come è possibile ehi ehi ma sto sparking fighter dov'è che se ne sta buono lì a me serve qualcosa perché non spavano la roba ecco secondo me sto guacetta secondo me sto guacetta perché ne ha già killati due o una spada una spada ok adesso andiamo a fare i curi o quella di legno che non fa neanche tanti danni comunque sono ancora quasi tutti a tre e proviamo a fare danno ecco questo bambi 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 vieni qui bambi ecco e questo qua è il fighter questo qua è il fighter eee come mi sparano lontano perché essendo rosso sparano subito lontano però anche tu sei rosso perché mi spari anche tu così lontano vieni vieni non c'è niente lì non c'è niente là ok un cosciotto un cosciotto che mi ridà un po' di percentuale così meno perché io sono 320 adesso mangiamo 310 uh non troppo mi raccomando vai che lo faccio andare fuori uh vieni bimbi 292% questo oh mio dio quasi com'è perché questo qua è sempre uh ho preso una pozione di velocità credo mi sta lagando un po' ehi perché non tocca nessuno uh l'ho sparato l'ho sparato l'ho sparato via distruggiamo tutto vieni qui vieni qui mi sono 445 tra un po' ecco guardate quanto mi sposto lontano oh l'arco l'arco oh cacca ho preso l'arco pezzo di emmental allora non abbiamo ancora nessuno a uno però noi possiamo vincere possiamo ancora vincere questo qua è la spada io non ho niente ho un mio bel pugno ho il pugno nelle mani ho il pugno nelle mani guardate come lo lancio però dai non è possibile non becco nessuno sono al 527% qua non schiazzerà mai nessuno ehi eeeh come volo oh come volo allora mi serve qualcos'altro passing fighter è l'unico verde perché sarà appena morto ecco mentre gli altri si fanno male vado qua fuori allora ce ne sono solo 3 che sono al massimo ok vediamo di far fuori qualcuno allora dove siete qua c'è il buco per terra no possiamo passarci benissimo oh sono tutti qua ma ciao se non mi sbaglio ha una percentuale dovremmo morire comunque credo forse al mille non lo so non me lo ricordo uh l'ho lanciato l'ho lanciato però reggo 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 allora questo qua come fare se sono a 139 197 200 oh oh l'ho preso l'oro oh hanno spawnato lo zombie hanno spawnato lo zombie gigante questo qua ora ci vogliamo vero no no non sono ancora arrivati sotto hanno spawnato lo zombie gigante però tra 3 minuti 53 la partita finisce e noi ne vinciamo ne perdiamo alla fine vieni 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 316 io sono a 784 no no non voglio morire ecco oh sono l'unico a uno no no non voglio morire voglio arrivare alla fine oh qualcuno sta morendo finalmente oh mio dio oh mio dio ok madow che bordello che bordello ok lì spawnava qualcosa ora non spawna più tu vuoi morire o no oh si lagga 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 ma come fai a farmi andare così lontano mi sta laggando è un casino sono molti sono eee ho perso ho perso ho perso non ci credo non ci credo dai voglio farne ancora una ok 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 prossima arena è quella là che secondo me è la più la più bella la nave mi piace assai siamo in 3 ok siamo solo in 3 questa volta perché questa se non mi sbaglio il massimo è di 6 quindi non potevamo essere tanti di più vediamo un po' di solito qua sotto c'è questa carne che ah ice cube alla fine mi ha dato che serve farli non so se congelare o o rallentare non mi ricordo più comunque vediamo un po' qua c'è di solito c'è qualcosa ecco la bomba la frag grenade la granata venite 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 ok è là è là uno è là cos'è no no scusami eh adesso devo picchiare no non posso aver sbagliato così vai vai giù no oh oh calmini voi calmini calmini non facciamo scherzi ragazzi non facciamo scherzi ci serve qualcosa per far male nove minuti alla fine anche qui un arco un arco mio vediamo un po' l'arco 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 se non mi sbaglio lancia più eh infatti lancia un po' di più che una sola ok è già finita bene oh no ha preso un uovo di qualcosa un uovo di qualcosa che sa cosa spona oh oh l'ho ucciso io uno non so come ma l'ho ucciso io grandissimo sto vincendo sto vincendo bravo dai volaci 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 scontro fra titani dove è andato io vado a cercare qualcosa vado a cercare qualcosa cosa c'è qua oh la spadina la spadina via vieni vieni che adesso ti faccio vedere io oh qua no sei richiuso vai vai devo andare sotto devo andare a picchiare vedete qui che vi picchio tutti e due forse è meglio prima il il rosso oh mio dio vai muori 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 ma già finita la spada non è possibile l'altra dov'è ok siamo tutti qua così almeno ci picchiamo ci picchiamo ci picchiamo distruggi qualcosa cadi fatti male non lo so wow wow cosa è successo qua dietro c'è qualcosa no non è ancora spawnato niente sono ritornati su ritorniamo su anche noi vediamo un po' qua sopra no la bomba la bomba la bomba no 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 la messa la messa la messa oh oh oddio c'è dato poco 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 però manca uno qui dove l'altro no sono morto sono morto sono morto sto zasha bisogna ammazzarlo dai che è morto anche lui dai che uuuuh detto fatto proprio detto fatto detto fatto perfetto siamo tutti a due di nuovo tutti a pari allora questo qua se lui va sopra si fa tanto male vieni qua vieni qua salici salici cavolo salici 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 oh c'è salito oh mio dio no perché c'è questo qua adesso però c'è tanta roba non c'è salito non c'è salito perché è ancora lì la pedana non so se andarci io e poi e poi ci va sopra perché non salta in aria l'uovo 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 oh joshua quitta yeah uno ha quittato adesso ne manca solo più un altro jac jac chissà dove è finito adesso l'altro vediamo un po' se lo vediamo oh eccolo là guardalo guardalo sto figlio di no mi ha preso mi ha preso mi ha preso allora devo prenderlo devo prenderlo no non è possibile tutto finito quel pezzo di idiota vieni vieni giù vieni giù non mi far venire a prendere che poi ci muoio ecco sto doppio salto però vieni adesso adesso vedi eh ti è piaciuto eh ti è piaciuto star là sopra ti è piaciuto vieni qua adesso e non ci riandare porco jac porco jac porco jac vieni qui vieni qui vieni qui jac jac dei miei stivali jac dei miei stivali vieni che tanto vinco io vinco io ho vincere a lui vieni sono più veloce io il pugno più veloce del west oh si sta richiudendo il buco cac muorici 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 dai qualcosa di bello qua ti prego ok beh mica tanto bello dove di un uomo è andato l'altro salendo su oh sono lento sono lento segui fermati che sono lentissimo come ho fatto a prenderlo io se l'ho tirato io l'endermen intanto già muori e dai non far ste cose sta già durando troppo intanto non mi prendi va non mi prendi oh già già oh sei morto ah sei morto e adesso e adesso dai dai che sei morto vieni vieni uno di noi due vincerà ok questo va sponato uno zombie ho sponato un ragno che oh oh ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto sì ho vinto ok quindi con questa vittoria io direi che anche per questo episodio è tutto come sempre commentate iscrivetevi un bel mi piace e al prossimo episodio ciao ciao Grazie.